Nessuna estigazione a compiere un gesto estremo. La procura di Padova ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta sulla morte di Ahmed Judier, lo studente quindicenne scomparso da casa il 21 aprile scorso e trovato senza vita nelle acque del Brent all'altezza della passarella di Torre tra il comune di Padova e Cadoneghe il martedì successivo. Nessuna traccia di violenza sul corpo del giovane, nessun risultato neppure dalle numerose perizie disposte dal tribunale. Nell'immediatezza del fatto tra le piste seguite c'era anche quella del cyberbullismo, ipotesi che aveva portato un attento esame dello smartphone e della console di Ahmed. Niente è emerso dalle relazioni dei periti incaricati. Ricostruite le ultime ore dello studente e le possibili relazioni, il PM ha chiesto di porre la parola fine all'indagine e ogni possibile collegamento con la morte di un altro studente avvenuta nello stesso tragico punto, Henri Amundsen, il 18enne di Cadoneghe, morto a settembre di un anno fa.